Gentili telespettatori, buona giornata, l'Europa si è svegliata ma ovviamente tra il dire e il fare definitivo c'è di mezzo veramente il mare. Piano dell'Unione Europea in 20 punti, regole per le navi di soccorso, la commissaria europea agli affari interni Johansson dice la situazione non più sostenibili. Piantedosi il ministro dell'interno italiano si reputa soddisfatto. Un approccio più coordinato alla ricerca e al soccorso, un rafforzamento dell'attuale meccanismo volontario di solidarietà, il tutto declinato in 20 azioni volte ad affrontare le sfide immediate in corso. E così la commissaria Johansson ha presentato l'action plan per gli arrivi di migranti del Mediterraneo in vista del consiglio straordinario di venerdì, convocato in seguito alle tensioni tra Parigi e Roma, che avrà all'ordine del giorno anche le altre rotte di arrivi irregolari nell'Unione Europea. Gli ultimi eventi, dice il commissario, confermano che la situazione nel Mediterraneo centrale non è più sostenibile. Ringraziamo anche le strillate di Macron che ha fatto aprire questo tavolo come aveva pianificato la Meloni. Quindi la Meloni non ha dovuto strillare lei, ha fatto strillare Macron. C'è cascato con tutte le scarpe Macron. Un applauso. Bravo Emmanuel con due M. Gli ultimi eventi confermano che la situazione nel Mediterraneo centrale non è più sostenibile. Nel 2022 sono arrivati oltre 90.000 migranti e rifugiati, partiti principalmente da Libia e Tunisia e provenienti da Egitto, dove non c'è nessuna guerra, Tunisia, dove non c'è nessuna guerra, Bangladesh, dove non c'è nessuna guerra, con un aumento di oltre il 50% rispetto al 2021. E poi aggiunge la commissaria troppe persone cadono nelle mani dei trafficanti. Il 90% di quelli che arrivano irregolarmente passa dai trafficanti. E dunque è fondamentale prevenire le partenze irregolari. Il ministro dell'Interno Piantedosi si è detto soddisfatto per i contenuti del piano perché mette al centro della discussione la gestione dei flussi migratori nella prospettiva già auspicata dal governo italiano. È una valida traccia di lavoro comune, dice Piantedosi. Molto significativo il riferimento a una implementazione del meccanismo di solidarietà adottato nel giugno scorso, tenuto conto che fino ad oggi ha dato per l'Italia risultati assolutamente insufficienti. È stata la stessa Johansson ad ammettere che dobbiamo incrementare l'applicazione. I ricollocamenti sono in corso, ma il numero di persone è stato con questo meccanismo è insufficiente. Rafforzare il quadro esistente. Ma attenzione, naturalmente l'Italia proporrà non solo questo, perché con il ricollocamento volontario non si va da nessuna parte, ma proprio da nessuna parte con il ricollocamento volontario. Bisogna fare quel piano Marshall che diceva il governo italiano, cioè por dare dei soldi ai paesi costieri per convincerli che è meglio non far partire le persone. Quindi piuttosto che ricevere i soldi dai trafficanti che li passano le autorità, una parte, per il loro silenzio e complicità, dice glieli diamo noi i soldi di più, così fermano le partenze. Quindi per fermare le partenze dalla Libia, l'Italia o l'Europa deve dare più soldi di quelli che danno i trafficanti ai governi locali. È chiaro? Per fermare le partenze devi dare più soldi di quelli che oggi ricevono i governi costieri. È chiarissimo, no? Ci sono 20 punti. Al punto 17 necessità di un quadro di riferimento e linee guida specifica per le navi ONG, attive nella ricerca e soccorso, in particolare alla luce degli sviluppi nel contesto europeo, ma da discutere a livello di organizzazione marittima internazionale. L'obbligo legale di soccorrere e di garantire la sicurezza è chiara. Tuttavia riconosce che qui ci sono molte sfide. La situazione odierna delle navi private o ONG che operano in mare è uno scenario che manca ancora di sufficiente chiarezza. Frontex effettuerà una valutazione mirata della situazione nel Mediterraneo per individuare le esigenze di un sostegno rafforzato attraverso operazioni congiunte. Ma non è una nuova missione navale, ha precisato la commissaria dell'Unione Europea. Il piano è di fatto un appello ad accelerare le iniziative già sul tavolo, perché Johansson, per garantire una soluzione sostenibile in grado di bilanciare solidarietà e responsabilità, è necessario adottare tutte le proposte legislative nell'ambito del patto sulla migrazione e l'asilo. Ma già da due anni gli stati membri discutono senza trovare un'intesa. Quindi il governo italiano andrà avanti su due direttrici. La direttrice europea, spronare l'Europa a fare di più, a mettere delle regole e poi l'Italia dovrà fare da sola, con dei nuovi decreti sicurezza, come ci sono in tutti i paesi, come in Spagna. In Spagna c'è la confisca, la multa e l'arresto del comandante. In Italia ricalcheranno questo, senza l'arresto, perché in Italia non si può fare, in Italia non vai in galera manco se fai... Quindi ci sarà la confisca della nave e ci saranno multe da capogiro. Questo è sufficiente. Una volta che arriva una nave e dice vuoi entrare? Ti dico di no e tu entri lo stesso. Arriva, prego, vai al molo di Catania. scendere tutti, va bene, scendere tutti. La nave è confiscata, non la vedi più e mi devi pagare una multa di un milione di euro. Fine dei giochi. Confisca. Finito. Ecco, quindi Europa, Italia farà la sua parte, poi ci vogliono, a parte le confische, ci vogliono degli accordi con i paesi costieri. Ecco, accordi con i paesi di partenza, dando soldi per trovare la loro collaborazione nel fermare le partenze, che non è nient'altro che il blocco navale. Quando tu ti metti d'accordo con la Libia, dandogli soldi, dici ci mettiamo d'accordo, io ti do i soldi e tutti e due insieme, Italia e Libria, cerchiamo di impedire le partenze, pattugliando tutta la costa libica in maniera massiccia, dandoti anche i soldi, ovviamente se no tu non lo fai, e quello è il blocco navale. Un accordo con la Libia e la Tunisia per non far partire più nessuno, riempiendo di soldi Tunisia e Libia, di euro. Va bene così? È chiaro sto fatto? È chiaro, dai. Questo è il prossimo passo del governo e sono sicuro che lo farà. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi che c'è anche Tele Italia Seconda Rete e poi c'è anche gli altri due canali, uno di mia moglie che si chiama In Cucina con Carla e l'altro sempre di mia moglie che si chiama Tutorial Uncinetto. Va bene. Grazie a tutti e e arrivederci a presto. Ricordatevi che poi tutti questi video sono condivisi nella pagina di Facebook Tele Italia. Quei simpaticoni di Facebook. Arrivederci a tutti e grazie.